Ciao a tutti poracci e bentornati! Oggi vi propongo il riassuntone del primo torneo di Smash che si è svolto in live con gli iscritti al canale. È stata una crew battle tra old e next gen, ovvero i vecchietti se le sono date di santa ragione con i poracci più giovani e i risultati sono stati sorprendenti, vedere per credere. Prima di lasciarvi agli highlights della serata, vi invito a iscrivervi al prossimo torneo che si svolgerà martedì 11 sempre in live sul mio canale Twitch. Stavolta sarà strutturato incontri 2 contro 2 con il fuoco amico attivato e qualcosa mi dice che ne vedremo delle belle. Se siete interessati a portare il vostro team vi lascio tutte le info per l'iscrizione qui sotto in descrizione. Ma comunque vi consiglio di passare e fare un saluto anche solo per partecipare da spettatori, non ve ne pentirete, promesso. Se avete qualche dubbio mi raccomando vi aspetto su Discord o in live lunedì a partire dalle 21.30 dove tra l'altro inizieremo a allenarci per il torneo del giorno dopo. E visto il grandissimo successo delle guide Smash, il prossimo video, come promesso, arriverà mercoledì 12. Il riscontro è stato super positivo e mi aspetto altrettanto anche dal prossimo episodio. E per finire mi raccomando lasciate un like e iscrivetevi al canale se siete nuovi. Io sono il Poro Michele, questa è la Crew Battle, buone botte! Allora, io immagino che Rossi Giova sia il primo e parte così ragazzi. Primo match, Catafratta contro Rossi Giova. In caso Gheorghi si mette secondo, vai 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 vai! Dai ragazzi eh! Belli fomentati! Attenzione che Esca è un ora è fortissimo, io ve lo dico. Attenzione, è un Esca è un ora in difficoltà. Ma in terra e ammazza Rossi Giova con un pugno da altri tempi e porta in vantaggio per ora la World Gen. Va di danno aggiuntivo ai danni di Rossi Giova che prova a rientrare ma deve stare molto attento perché Esca è super aggressivo al bordo. E lo dimostra ancora una volta. Attenzione, muore Rossi Giova così. Pugno in faccia e toglie finalmente una stocca Rossi Giova. Che a questo punto se vincerà dovrà partire almeno con una vita di svantaggio rispetto al suo prossimo avversario e chiude, chiude l'incontro. Grandissimo Rossi che comunque ha tolto una stocca importante, importante. Ok. Ricordiamo che si è suicidato perché questa qua è una crew battle e quindi le stocche perse in precedenza si portano come un peso. E Gheorghi è libero di palleggiare, Esca è un ora attenzione, toglie quasi subito la prima stocca con una combo di juggling ad altri tempi. Niente, non vuole morire. Eeeh, prende la prima stocca! Attenzione! Spectro e non muore ancora! Esca è un ora invincibile, orgoglio della all gen. Ma ecco, e la stocca vola e a questo punto è in svantaggio. Attenzione perché ha il pugno carico, eh. Vuole interrare Gheorghi. Ma gliela da stocca e gliela toglie lo stesso e comunque riesce a togliere due stocca all'avversario. Attenzione! No, non gli entra il super pugno. E finisce qua la DI leggermente sbagliata. Vai Roxx, orgoglio vecchio. O vecchio orgoglio. E si chiude così, un po' con lag. Eeeh, abbiamo un Incineroar. Poi... No, missa la grandissima. Attenzione, eh. Malus perde la prima stocca! Che prima lancia il missile e poi... Richard Shot e va con un Down Tilt o un Down Smash? Non lo so. Malus in netto svantaggio. Vediamo se si farà tristoccare o riuscirà a togliere almeno una vita al buon Roxx. Che lo sappiamo tutti. Eeeh! Malus! No, Malus! Perde così una vita. Eeeh! Si fa fregare alla grandissima con doppio rimpallo. La toglie. Attenzione! Backthrow! 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 Nooo! E' uscito il demonio. Eh, purtroppo... Eeeh! Puoi andare in pensione con onore, direi. E infatti... Magri, mi raccomando, eh. Sono design di Pac-Man. Direttamente dal fastidio degli anni Ottav... Oh, le chiave, lag, qualsiasi cosa. Attenzione, Magri tira una siusta incredibile Axel. Una miggata assurda. Quindi, perdono una vita in ex-gen, mentre gli old gen rimangono in pari. Anche questa è una tattica, vero? Che pack rientro! Mamma mia! Prima stock tolta! La liscia di pochissimo. Ma si becca un mamma ruozzolo in faccia. Va! Cerca l'avversario! Recovery! Match in perfetto equilibrio. Ma in realtà siamo ancora in una situazione di perfetta stasi. Magri forse deve, esatto, risultare un pochino più aggressivo. Eeeh! Con grande fortuna e con un pizzico di inconscienza. Riesce a togliere la seconda stock, ma si fa subito fregare dall'up smash di Ataraxia. Intanto si prepara il vecchiardo post... Post magri. Ma attenzione! Suicidio di Ataraxia. Ok, inizia il match. Vai pack, super aggressivo. E toglie la prima stock così! Attenzione! Io ho visto una chiave da quelle parti, eh. E rei... Si toglie una vita così! Attenzione! Magri, magri, attenzione! Perché qua proprio... Sto riscrivendo la storia dell'aggressività. No! All'ultimo! Vai, inizia il match. Oh, ragazzi, ma qua... Mamma mia! Va così Ourobic. Tristocca. Ok, un bel incontro rapido. Come piace a Gerard. Allora, vediamo Ourobic che si avvicina. Andre si avvicina. Partono le scintille. E tornano indietro. Nei! E vince Ourobic! Non so di quanto. Blam! Moralmente superiori! Dunque, mi fa strano vedere... Cioè, Sonic che è il vecchio e... Oh! Ourobic! Prima stock! Ottimo! Spot dodge! Eeeh! Finalmente toglie questa stock! Ourobic! Uuuuh! Ci cammino, non muo... Eh, niente. Perde un'altra stock. E ora staremo a vedere. Oh! Cargo throw! Cargo throw! Cargo throw sia! Ok, inizia lo scontro. Inizia. E ne ha presa una poi fatta molto bene. E c'è Gramino. Asa stock. Il suo sporco lavoro la faccio. Con quel frontman di Pit. Oh! Back here! Una sorpresa! Perché siccome corro le maratone. Ho bisogno di mettere massa. Perché sto... Lanca ha attaccato... Ammonito. Ammonito, ragazzi. Attenzione. Suicide di Pit. Cioè, ti ho rivelato una lore. Proprio che non l'avevo mai detto a nessuno. Perché mi sei simpatico, Ciro. Followandomi gratuitamente. Oh! Sfavillotto come gode della sofferenza altrui. Ricordiamo Andrea. Malato, tra l'altro. Ora ti... Ok, ecco il maestro cinese. Che dispensa conoscenze. Oh! Ottimo uso del C-stick. Mamma mia. Ora ti dico, eh. Appena finisce questo match, tu passo. No, bot! Resiste! Guarda poco la mia room. Ma chissà perché. Attenzione, Andrea! Fa il colpaccio. Nabot. Non mollare. No! No! Nabot, no! Ok. Inizia il match. Ci dovremmo fidare. Che palle, stupida Switch. Lanca! 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 Ciao, Lanca! Allora, Andrea, quanto hai vinto? Perché ci sei sconnesso. Ah no, hai perso! Oh mio! OMG! OMG! Marco, hai già tolto due stock. Stai andando fortissimo. Sta andando fortissimo. No! Perde subito la vita così. Attenzione Marco chiude così Mamma mia ero convinto di essermi suicidato Ah ma Marco se la toglie una vita Ma porca miseria Stonks Ciao Però mi sono suicidato ragazzi Vabbè una stocca Cioè noi in teoria possiamo schierare di nuovo altri giocatori capito Cioè noi partiamo già con due in meno capito Se voi vi siete presi poi Uh Gerard brutta Uh buono buono Dragline è passato da voi Noi abbiamo perso praticamente Voi è come se avete tre vite in più adesso Uh E c'è Però in teoria c'è ancora Nick ragazzi Quindi andiamo a dieci Penso Ma Ne prendiamo altre tre Eramo trenta e trenta Uh Super stock il Nick Quelle sono le gioie Mi sta venendo la biocca a sto mezzo Invece mai visti così tanti proiettili Non sono mezzo GG Ho aggiornato i risultati Si legge? Ho aggiornato i risultati